L'interdizione della diga foranea di Gela non consente di operare, per questo motivo questa mattina alcuni operai hanno manifestato il loro disappunto dinanzi alla sede della Capitaneria di Porto. La situazione al momento attuale non consente alle imprese sub-paltatrici di eseguire i lavori. Se è agibile il pontile, come mai fanno caricare e scaricare queste grandi navi? E' per noi che abbiamo la possibilità di lavorare, non possiamo lavorare. Guardi, ci sono state 3-4 unità a lavorare nella diga, sempre come operato di sud elettro. Io ho sentito dichiarazioni che siamo ad agosto in 50 a lavorare là e questo non risulta affatto, non è una cosa vera. La sua eccellenza del prefetto ha detto che doveva far emergere il territorio di Gela, visto che siamo qua tutti martoriati e siamo tutti in un momento di crisi. Io vorrei che queste persone, giustamente la burocrazia, i documenti, prendessero atto di tutte queste famiglie che sono nell'astico e attualmente magari in questo, non è anche nel governo, non è anche nel nostro territorio, di rilanciarlo e spendere qualcosa in vero, magari tutte queste cose che sentiamo attuali. Assieme ai lavoratori c'era anche la segretaria provinciale della FIOMO Cigelle, Orazio Cauci. Nonostante tutti gli impedimenti che ci sono stati negli ultimi sei mesi, ad oggi è impossibile svolgere quell'attività perché vi è una inagibilità del pontile che impedisce lo svolgimento di quell'attività. Infatti già da agosto si poteva iniziare quel lavoro, come diceva il comandante nella scorsa intervista, però poi una serie di problemi burocratici hanno impedito questo. Noi oggi siamo qui affinché questi problemi vengano risolti nell'immediato e che si dia speranza a 50 lavoratori che hanno già svolto le vizie mediche, tutti i corsi di formazione e di sicurezza e che attendono quella speranza di ritornare nel mondo del lavoro attivo. 50 lavoratori che fanno parte di quante imprese? Sono variate imprese che hanno degli subappalti con l'azienda che ha acquisito questa attività. Qui c'è da dire che in questo momento si sta svolgendo l'attività di bonifica con solo 2, 3, 4 operai. E' ridustivo per un lavoro che potrebbe dare speranza a quegli lavoratori che sono da tanti anni fermi e quindi hanno bisogno di questo lavoro per lo sostentamento delle proprie famiglie.